Dopo quasi vent'anni di esperienza, Rubelgrano è la realizzazione di un sogno, il posto dove possiamo fare delle ottime pizze e delle stupende bevute. Ho scelto di utilizzare i prodotti T.A.M.I.L. perché ho visto che hanno una qualità superiore data dalla costanza del prodotto che riesco a dare, dalla presenza del lievito madre che utilizziamo in tutti i nostri impasti, anche nell'impasto al tegamino che è la pizza tipica di Torino e comunque utilizziamo le farine T.A.M.I.L. anche per tutta la parte di pasticceria. Sono prodotti per l'appunto costanti di facile eseguzione, ad esempio la succhiarella, quindi in un tempo relativamente breve si riesce a ottenere una pizza spettacolare. Qualsiasi problema dovesse esserci siamo assistiti per sapere come utilizzare al meglio i prodotti. A intervalli regolari facciamo degli incontri per andare a vedere i nuovi prodotti che usciranno e scambiarci idee sulle esperienze che facciamo nei locali. Da quando ho iniziato a utilizzare i T.A.M.I.L. nel corso degli anni ho avuto un forte aumento di clienti che trovano comunque la nostra pizza più buona rispetto alle altre. Da quando abbiamo conosciuto la succhiarella abbiamo iniziato a utilizzarla anche per tutte le versioni al tegamino. Quindi per il tegamino classico utilizziamo la succhiarella classica. Facciamo una forma particolare e rettangolare e utilizziamo una succhiarella nostrano e facciamo un'altra versione rotonda utilizzando la succhiarella rustica. Utilizzare la succhiarella per fare gli impasti al tegamino ci è agevolato tantissimo perché possiamo fare gli impasti che hanno una maggiore idratazione. Quindi una volta cotti risulteranno essere molto molto leggeri. Nel corso degli anni è proprio cambiata la figura del pizzaiolo. Una volta chi faceva il pizzaiolo faceva un solo tipo di impasto per tutta la sua vita lavorativa. Adesso le cose sono molto diverse perché è cambiata anche la clientela. Quindi è una clientela più attenta e consapevole a quello che mangia. 3 situação 3 Ingredition ée